invasione è una cosa che si può manifestare in molteplici modi tutti piuttosto subdoli e inquietanti tutti quanti che rendono voi umani particolarmente vulnerabili la storia di oggi non è propriamente una storia dell'errore non vi farà accapponare la pelle dei prividi ma d'altronde quando si ha a che fare con un regista come Tim Burton ti aspetti una storia piuttosto grottesca strana ma non tanto inquietante e spaventosa è questo il caso di oggi 1996 inizia un'invasione marziana un'invasione grottesca violenta a tratti bizzarra e anche disturbante un mix perfetto di computer grafica stop motion e animatronics prendono Mars Attacks un culto ancora oggi ispirato ai film di serie B degli anni 50 e l'invasione più inquietante assurda anche divertente ammettiamolo ma disturbante della storia si vabbè lasciate stare questo piccolo inconveniente purtroppo i marziani sono piuttosto suscettibili quando si parla di collaborare ehi ehi stai dimenticando qualcosa dove vai venimi a prendere torna indietro figlio di putt grazie a tutti